Fumogeni, petardi, stelle filanti e bandiere. E la festa di Atene dopo la vittoria di Nea Democratia, il partito di centrodestra del premier uscente, Kiriakos Mitsotakis, che ha ottenuto oltre il 40% delle preferenze alle urne. Il risultato consente a Mitsotakis di governare da solo, con 158 seggi su 300 nel Parlamento monocamerale. Ha sbaragliato la sinistra di una vecchia, neanche troppo vecchia conoscenza, Tsipras, presidente dei Greci, dal 2012 al 2015, paladino dell'anti-austerity. E probabilmente per lui Tsipras, i giorni alla guida del suo partito, Siriza, sono contati. Quelle di ieri sono state per la Grecia le seconde elezioni in poco più di un mese. Nea Democratia era uscita vincente anche dal voto precedente, ma non aveva raggiunto un numero di seggi sufficiente per governare. Questa volta le cose sono andate diversamente, perché si è votato con un nuovo sistema elettorale che assegna al partito vincitore un premio di maggioranza flessibile, in questo caso 50 seggi in più. Mitsotakis ha già prestato giuramento davanti alla presidente della Repubblica ellenica, Caterina Sakellaropolu, e ha assicurato che porterà a compimento una serie di riforme promesse durante la campagna elettorale. Sono riforme e promesse ambiziose, dall'aumento salariale, soprattutto per i redditi più bassi, ai problemi legati all'inflazione, ma anche un potenziamento del personale medico negli ospedali pubblici. La sua popolarità è piuttosto alta perché è riuscito a garantire una crescita economica al paese e, dopo anni di tagli, ha lievemente incrementato pensioni, salario minimo e favorito le imprese. Mitsotakis ha però diversi nodi da sbrogliare, dal deficit ancora troppo alto alla questione immigrazione.